Simona Padarella, piano piano stai diventando il nuovo volto del nuoto azzurro, sei amata da tutti perché comunque sei rimasta sempre germina e semplice. Cosa ti prova ad avere tutti i riflettori su di sé? Beh, sempre cercato comunque di restare abbastanza me stessa anche dopo i risultati. Ovviamente comunque mi sono a porta dell'attenzione del pubblico, però mi fa molto piacere, non mi ha mai dato un battaglio. Quando sei tornata a casa da Glasgow e hai realizzato un po' quello che hai fatto a Glasgow, sicuramente un'impresa un po' storica per il nuovo italiano, quali sono state le tue emozioni? Beh, innanzitutto le emozioni sono state quelle di Glasgow che mi sono portate a casa. E poi da lì, a parte sono andata in vacanza, quindi ho cominciato a staccare un po' e per realizzare dovevo un po' staccare. E poi niente, ancora appunto le emozioni che mi porto sono pieni. Quest'anno è un anno abbastanza fondamentale, ne abbiamo parlato tanto, mondiali in Corea, in vista poi di un appuntamento ancora più grande che è quello del 2020. Un mondiale che sarà sicuramente combattutissimo, su una le decchi che si sente un po' il piatto si incollo, ma non solo. Come saranno un po' gli obiettivi di Simona Padarella e come vedi il mondo mondiale? Gli obiettivi è comunque cercare di arrivare lì con tre gare, 400, 800 e 1500. Ovviamente le principali sono 800 e 1500 e le avversarie io non le guardo mai durante l'anno, ma non perché penso di essere superiore, semplicemente perché preferisco così e poi vediamo chi ne ha di più. Beh, alle avversarie sappiamo che ci pensa il tuo allenatore Cristian Minotti perché abbiamo parlato prima con lui. E parlando di Christian, com'è allenarsi con lui? Come ti dirita? È buono? Io lui lo conosco da tantissimi anni, quindi c'è un rapporto molto stretto, sa tutto di me, mi conosce alla perfezione. Quindi diciamo è un allenatore perfetto, ovviamente si mi sta parecchio addosso, ma va bene. Poi comunque essendo un'atleta sta veramente tutte le mie gare. Grazie mille Simona. Grazie mille. Grazie.